Ciao, nel consulto interattivo di oggi voglio andare a vedere quello che può essere un messaggio per l'energia femminile in questo periodo. Ovviamente prendi queste energie per il momento che stai vivendo e quando ovviamente guardi questo consulto, non ha una scadenza. Andiamo proprio a vedere che cosa ci vogliono comunicare per l'energia femminile che può risiedere sia in una donna e anche in un uomo, perché ciascuno di noi ha una parte femminile. Quando mi riferisco alla parte femminile mi riferisco alla parte recettiva, quella più emotiva, legata all'aspetto emozionale, legato anche all'intuizione. Quindi andiamo a vedere che cosa vogliono dirci. Utilizzeremo le carte, trovi il link di queste carte, sia degli oracoli che dei tarocchi che utilizzerò, nella descrizione se stai guardando questo video su YouTube oppure nei commenti se stai guardando sull'altro social. Andiamo proprio a vedere quindi quale messaggio ci vogliono dare le carte. Le carte sono entrambe della stessa autrice, quindi penso che, almeno dalla mia esperienza, che comunichino molto bene tra di loro. Andiamo a vedere che cosa ci vogliono dire. E traiamo un messaggio di ispirazione e di guida. Magari ci possono dare qualche indicazione per questo momento. Ovviamente se non ti risuona vuol dire semplicemente che questo messaggio non è per te. Andiamo a chiedere un messaggio per energia femminile. Eccoci. Ah, bene. Andiamo a chiedere a specificare con i tarocchi. Vediamo cosa ci vogliono dire. Sicuramente qui per l'energia femminile, da un punto di vista emozionale, quindi, c'è un grande lavoro di riacquisizione della fiducia in se stessi, nel capire quando è il momento di lasciare andare determinate situazioni e di rilasciare anche un po' le colpe. Vediamo con i tarocchi se vogliono dire qualcosa in più, così possiamo capire meglio. Ecco, sono cadute queste, prendiamo anche il fondo mazzo. Allora, ebbè, sono anche in questo caso le carte parlano molto bene. Allora, quello che ci viene detto in questo momento, come dicevo, c'è un'energia di grande lavoro emotivo. Abbiamo questa carta che ci dice di dover affrontare determinate situazioni, di doverle prendere un po' di fetto. Quindi c'è bisogno in questo momento di non nascondersi, di essere, qui mi esce un re di spade, quindi di essere anche ambiziosi e di non temere di voler far emergere quelle che sono le nostre necessità. C'è bisogno di uscire da uno stato di chiusura in cui abbiamo chiuso, diciamo, le nostre potenzialità, le nostre forze, forse in attesa di qualche cosa. Infatti mi esce questo due di spade. Quindi il due di spade, anche in questa carta, si vede che c'è una possibilità di scegliere di andare da una parte e dall'altra, ma si è con una benda sugli occhi, quasi come se non si volessero affrontare determinate situazioni. C'è bisogno di uscire proprio da questa situazione e di prendere in mano la propria spada, che vediamo qua, e capire che non siamo deboli, non abbiamo, cioè anche se ci sentiamo magari deboli perché abbiamo magari qualche problema, ci sentiamo magari mancanti in qualche cosa di andare avanti. In questa carta si vede questa ragazza che ha una gamba artificiale, perché probabilmente è stata amputata la gamba, oppure non l'aveva sin dalla nascita, ma nonostante questo non si abbatte, nonostante questo va a cercare di fronteggiare questi draghi e il suo intento è quello di entrare, passare, superare queste mura. Lei sa di avere tutta la possibilità di farlo. Il re di spade ci conferma questo, il re di spade ci dice che ha la capacità anche intellettiva, la volontà dalla sua parte, proprio queste caratteristiche che le possono permettere di uscire da questo stato di stasi. Quindi probabilmente se stai ascoltando questa lettura, se è per te, altrimenti non è per te, ti sei sentito, ti hai sentito un po' chiuso in questo periodo, ti sei chiuso un po', hai chiuso un po' anche le tue necessità, quello che volevi dire, quello che volevi... si tratta tanto di dire perché mi esce il re di spade, quindi come se tu avessi frenato nel comunicare le tue emozioni, ok? È come se ti fossi tolta o tolto la parola. Poi le carte successive mi parlano dell'albero e dicono di lasciare andare la situazione, lascia andare quello che c'è. E qui abbiamo un tre di bastoni e poi abbiamo un sette di pentacoli. E' il momento di lasciare andare ed essere propositivi, quindi ci sono delle cose che vanno lasciate andare, ma è come se dovessi tu decidere di lasciare andare. E' come se tu dovessi mettere davanti le tue emozioni, stiamo parlando della parte emozionale, dovessi mettere le tue emozioni davanti a tutti e a tutto in questo momento, non avere timore e raccogliere i frutti, nel senso che se in questo caso l'interpretazione del lasciare andare, visto che stiamo parlando proprio di emozioni, io ho chiesto direttamente, no? Proprio relativamente al lato femminile, è arrivato il momento del liberarsi, di lasciare fluire queste emozioni, di tirarle fuori con coraggio, dirarle fuori con coraggio e ovviamente anche con rispetto nei confronti degli altri, però il rispetto non è solamente nei confronti degli altri, ma anche nei tuoi confronti. E infatti il fatto che mi esca fuori questo rilasciare le colpe, secondo me è importante, perché magari c'è anche un po' questa tendenza a sentirsi in colpa per qualche cosa e quindi a creare anche una sorta di conflittualità, di competizione dal punto di vista emozionale, come se tu non ti sentissi di non meritarti di poter esprimere la tua voce. Però in realtà le carte parlano proprio di fare un passo successivo, proprio dal punto di vista emozionale, emotivo, e ti dicono di esplorare anche con fiducia questa tua parte, cioè il fatto di osservarti anche, di osservare che in realtà tu sei in grado di esprimere, di dire le cose che senti, di utilizzare la tua voce. Voglio andare a prendere anche altre carte. Sono uscite due volte i tre, quindi il fatto che ci siano già due o tre, mi parla di... ci sono diverse carte, come dire, dispari, e sono usciti anche due sette, quindi c'è proprio bisogno di passare all'azione. Le carte dispari sono sempre carte legate all'azione. Ecco, quindi il fatto di poter manifestare questa propria sensibilità, parte emotiva, e non tenerla più nascosta, ti può portare proprio a godere poi dei benefici. E questo può anche essere legato a un'autostima maggiore, perché il fatto di tenersi le cose sempre dentro va a intaccare la tua autostima. Anche qui mi esce un asso di pentacoli, quindi in questo momento tu hai l'opportunità di fare, di ottenere anche a livello concreto e materiale, che può essere anche nel tuo benessere, il sentirti meglio, proprio da questo parlare. Probabilmente se stai vedendo questa lettura, in questo, negli ultimi periodi, ti sei tenuto dentro, o tenuto dentro tante cose. A livello emozionale, emotivo, non hai detto cose che volevi dire. È arrivato il momento per trovare il modo, senza aggredire nessuno, però di parlare, di dire ciò che senti, di manifestare, e di sapere che il risultato che otterrai sarà sicuramente uscire da una situazione di noia, di stasi, di malinconia, perché poi in fondo mazzo mi esce poi anche questo quattro di bastoni, di ottenere anche un quattro di spade, di uscire da questa situazione di chiusura, quasi di riposo forzato, di guarigione. Sei pronto, sei pronta in questo momento per dire quello che senti, e può essere ad una persona che ti interessa, a tuo compagno, a tua compagna, al tuo capo, a un tuo amico, perché è come tu ti senti nell'ambito di una situazione, quali sono le emozioni che provi nel trovarti in una determinata situazione. I tempi sono maturi, ok? I tempi sono maturi, ancora a fondo mazzo mi esce il mondo, sono maturi per trovare un'altra dimensione di te, per scoprire, perché mi esce qui l'asso, il paggio di spade, per scoprire, per studiarti, anche vedere come stai poi, come ti riesci a sentire bene, più sicuro di te, quando hai detto ciò che dovevi dire. Perché chiudi un ciclo. Il mondo ci parla della realizzazione dovuta alla chiusura di un ciclo. Riesci a chiudere un ciclo, a mettere un punto e ripartire. A volte c'è proprio bisogno di fare questo. Dire le cose, non per forza perché abbiamo bisogno che le cose vadano in un determinato modo, ma mettere anche semplicemente un punto con noi per poter poi prendere una boccata d'aria e fare proprio quel salto in più che ci permette di passare oltre. Vediamo, voglio chiedere all'oracolo un messaggio. Vediamo cosa arriva. Chiediamo un messaggio ulteriore, poi prenderò due messaggi in modo tale che uno possa risuonarti magari più dell'altro, perché ovviamente siamo in tanti. Vediamo un messaggio ulteriore. Prendi le distanze, ce l'avevano detto già, lascia andare. Vai avanti con entusiasmo. Direi che sono perfettamente coerenti con la nostra lettura, ce la confermano, quindi trovi anche il link di questo libro nella descrizione. Spero che questa lettura ti sia stata d'aiuto, fammelo sapere nei commenti e io ti aspetto al prossimo video. A presto, ciao!